Prima di tutto, noi facciamo un piccolo risultamento, ora potete uscire, Secondo, lavoriamo con la struttura, la struttura è pronta, più o meno, è disponibile per la prova, la struttura, come noi facciamo la struttura, la nostra presentazione, due parti, vediamo due parti, prova tecnica prima, quando noi facciamo la nostra prima, noi facciamo tutto, ma formale, per seguire, per esempio, su numero, tac, 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 anche possibile dire, tac, tac, per scappare di stato emozionale, perché noi non necessario niente, solo ricapitulare movimento, struttura, come, e questo è il metodo come lavorare con ogni struttura, devo capire e ricordare, perché ancora, open class, sono parte di laboratorio, come creare un spettacolo, come lavorare con materiali prima di presentazione, tutta questa cosa che è necessaria. Capito? questa è l'unità, senza dettaglio, senza niente, assolutamente freddo, freddo, tac, tac, ok, ok, questo è la prima volta, seconda volta, inizio numero, finale numero, inizio e finale, è cosi, Questo è il metodo di lavoro e lo vediamo in caso necessario la terza volta, due volte. Dopo, noi lavoriamo su materiali, che significa che tutto il lavoro con oggetti primo, devo fare in maniera molto elegante, come tra uno e un'altra posizione, questo è importante anche. Lavoro con oggetti. E la terza cosa, lavoro ancora con tecnica, tecnica di schiaffi, tecnica di caduti. E un'altra cosa, devo capire, tre persone portano sedie, che va via con queste sedie? Anche devo trovare una scherza, o altre persone viene. Io credo che solo tre sedie, tutte le altre creazioni senza sedie. Ok, che significa che noi dobbiamo liberarci tre sedie, o trovare un'altra sedia. In caso c'è un'altra sedia? Sì, sì, possibile. Sì, possibile. Ok, meglio che questo, questo brutto abbastanza. In caso è possibile... In camerini. In camerini si siede, sì, sì, più o meno teatrali, perché questa è una cosa non giusta. E dopo così basta, Paolo. Quando tutta la tecnica, ballo, certo, short and stupidance. Devo fare volte come possibile, per ricapitolare, per conto. Tag, 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 tag. So, che significa che noi dedicare questo tempo per la tecnica, solo tecnica. Ok? Tutto chiaro? Domande? C'è domande? No. E quando tiriamo il numero, facciamo tutti così prima di uscire o uscire? No, no, no. C'è questi due fili, ma questo solo così o nero? Noi prepariamo. Lo dice ieri, possibile fare un fondale nero, bla bla. Se lo vuole, dopo il braccio. Lo vuole. Sì, nero meglio che questo. Questo è un po' troppo laboratorio, troppo classe. Per noi un po' più atmosfera, anche luce, sì? Sì, sì, montano a pranzo. A pranzo, ok. E Walter? Sì, sì. Chi montano? Walter? Riccardo. Le luci. Che c'è? Le luci. Le montano le 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 otoni. Sì, un po' più. Domanda, noi bisogna anche fondale nero, in caso possibile questo. E luci, dopo di pranzo. Sì. Cioè, l'erro dietro? Sì, ma quello che hai detto. Sì, ma quello che hai dito? Sì, sì. Le montano le le a pranzo. In casa voi vogliono una mano, anche i ragazzi possibili, due mani, tre, quattro mani, sei mani, cinque, ok, chiamiamo i nostri ragazzi per aiutare. Queste le spingiamo? Sì, spingiamo, in caso questo abbastanza luce con il fare, certo questo perché questo è brutto. Facciamo solo una zona, solo una zona, qui, 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 più o meno qui, il centro, è possibile anche, io credo sì, questo non è tanto necessario, un po' qui, ma più o meno il centro è qui, è così, questa zona, questa zona con luci, luci sempre le stesse, noi non cambiamo luce, è così, e qui, noi bisogna, qui in caso possibile, qui una parete di questo, o una scrivania, qui, qui nero, qui possibile anche grigio, va bene, è così, per voi siete qui, mettete i vostri aggetti, e qui, e qui, come un po' fuori, fuori la scena, ok, sotto di questa cosa, e così, e siedi qui, quando vostro torno, voi venite qui, questo per sempre, per tutti e due i nostri parti, voi, papere e pecore, papere e pecore, e qui. Quindi ci dividiamo, ci sediamo lì, se lì, o stiamo tutti a 17 da quella parte? No, no, tac, 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 due parti, si, vieni, ta, 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 in caso necessario, dopo così, noi scriviamo il programma, che cosa è, mettere qui, anche questa qui, parte, qui, basta per tutti, per vedere che cosa è, eccetera, ok? Ok, proviamo il nostro piccolo esercizio, con attenzione, ok, numero uno, numero tre, numero due, quattro, tre, Ok, riscaldamento individuale, Attenzione sul centro fisico, maestro del corpo, vediamo la musica. Grazie, ok. Grazie. Grazie. Di verso, direzione, tutto il corpo, tutti i collegamenti. Sì, che c'è lì, qui, lì la colla, tutto, tutto, tutto insieme, morbido, morbido, corpo morbido, diverso tipo di ondi. Grazie a tutti. 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 Ok, grazie a tutti. Ok, grazie a tutti.